Entità Marina, non c'è ragione di pensare che l'amore che io porto a chi ho lasciato sia diverso da quello che voi portate verso chi avete. Non è diverso perché l'amore, quando passa nella vostra dimensione, diventa ugualmente ricco di esperienze e di limitazioni, perché l'amore che si concretizza nel darvi e nel consegnarvi a un'altra persona dell'unione più o meno consacrata, ha in sé una caratteristica a cui non si può sfuggire. La caratteristica è che quell'amore soggiace a ciò che vi portate appresso e ciò che vi portate appresso è il vostro corpo, è il vostro sentimento, sono i vostri pensieri e soprattutto il vostro passato. Perché nell'amore spesso voi ponete il passato e legate l'amore al passato e lo costringete dentro il passato e lo arricchite del passato e lo sommergete nel passato e lo annegate nel passato. E ogni volta che l'amore si rinnova, ecco che voi riattingete al passato e lo riconsegnate al passato e così lo impoverite. Perché l'amore non può essere circondato dal passato, ma deve essere nel momento, deve essere qui, nell'ora, nell'istante, in ciò che siete adesso e non può essere in continuazione offeso dal passato.